Ehi what's up ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Hammer di Dragon State Oggi finalmente andiamo a vedere come poter fare gemme gratuite per Clash of Clans Oppure per altre applicazioni e giochi Allora, ecco di quale applicazione parleremo oggi Si chiama Tapporo Andiamo subito nei nostri store, quindi per chi ha iOS va sull'App Store oppure per chi ha Android va sul Play Store Cerchiamo Tapporo, tutto attaccato Lo scarichiamo e lo installiamo Dopodiché andiamo su Apri Una volta aperta l'applicazione ragazzi Una volta aperta l'applicazione andiamo quindi avanti Andiamo su Get Started Ci chiederà di mettere il nome, il cognome, l'email e una password Poi la data di nascita Se siete maschio o femmina E clicchiamo su SignUp Aspettiamo un momento Ok, siamo stati registrati E ci troveremo davanti a questa schermata In questa schermata ragazzi, io adesso vi lascerò qui sopra Un codice da inserire Che sarebbe il codice invito Con la quale vi darà la possibilità di iniziare con 250 oro E nel stesso momento io guadagnerò per ogni invito ricevuto Quindi mettete il codice e premete su più 250 oro Quindi dove c'è Tapp Mettete il codice e fate 250 oro Chiaramente anche voi avete quindi un codice invito Chiederete quindi ai vostri amici Ed eccoci qua Come vedete a sinistra c'è il menu dell'applicazione Qui vedete offers che saranno le offerte appunto giornaliere di Tapp oro Che ci permetteranno di quindi di guadagnare oro Che sono appunto i crediti per questa applicazione Oppure potremo vedere dei video che anche qui ci sbloccheranno crediti Potrete sbloccare ulteriore oro attraverso le offerte web Quindi da sito e da pc Ed è una maniera molto più diciamo più semplice Rispetto ad altre applicazioni dove dovete mettervi a scaricare Tanti di quelle applicazioni E aprirle 30 secondi Qui vedete i premi ragazzi Andiamo ad esempio su Paypal Cash Ed ecco qui vedete da 10 dollari Da 25 dollari e da 5 dollari Con il corrispettivo numero di oro necessario alla destra Se andate su invite Troverete quindi il codice con la quale potrete invitare ulteriori amici Potete farlo anche tramite Facebook Come vedete sotto via email oppure via SMS È un'applicazione che penso sia È un'applicazione molto comoda come vi dicevo prima rispetto ad altre E poter quindi shoppare gemme su Clash of Clans Vi lascio quindi ulteriori link in descrizione E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video